Credo proprio che sia meglio chiamare Sammy il pompiere! Norman, Mandy, James e Sarah si dirigono in mare aperto con i motori al massimo su Neptune alla ricerca di insetti alieni. Norman, Mandy, James e Sarah si dirigono in mare aperto con i motori al massimo su Neptune alla ricerca di insetti alieni! Mi mancano i giorni in cui dovevamo salvare solo gattini sugli alberi. Preso! 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 Io invece non ho ancora trovato il segnale! Abbiamo battuto Charlie e Mike! Ora facciamo rotta sulla terra. Non sono sicura di che direzione prendere. Non riesco a capire tutta questa strumentazione. Beh, andiamo di là. Credo proprio che sia da quella parte. Sei tu il capitano. Guardate! Terra in vista! Ma quello non è il molo! Siamo arrivati al faro! E stiamo andando dritti verso quelle rocce! Sarah! Vira! Non riesco a tenerlo! Le onde sono troppo alte! Oh no! James si sta reggendo allo scafo sul lato di Trimorza! Ora non più! Aiutatemi! Io non riesco a vederli, Sam! Un momento. Ricordi la prima regola delle missioni di ricerca. Più in alto sali, più lontano puoi vedere. Portaci su, Tom! Ci vedo! Sono vicini al faro! James è nei guai! Ecco, cerca di aggrapparti, James! No! Non riesco ad arrivarci! È Wallaby 2! Prendi l'argano, Sam! Non c'è tempo! Sì, Sam! Li ho preso, James! Prendo io il comando, Sarah! Voi tre, reggetevi! Portaci su, Tom! Tutto bene, Penny? Tutto sotto controllo, Sam! Riparti i ragazzi al malo! Oh, una delle rape sta ballando la lambada! Oh, quel mostro peloso ha masticato la mia rapa fino a ridurla in poltiglia! Dobbiamo riuscire a fermare, Norris, prima che mandi all'aria tutta la competizione! Oh, no! Sta mangiando la mia carota migliore! Oh! Oh, cielo! Norris! Norris! James è bloccato su una zucca gigante fuori controllo che si è abbattuta sul parco! James è bloccato su una zucca gigante fuori controllo che si è abbattuta sul parco! Vigile del fuoco Phillips, passa a prendere Sam! Ricevuto, signore! Tu porta Norris alla caserma dei pompieri. Io vado a salvare James. Ricevuto, Sam! Ellie! Segui quella zucca! Sarebbe stato meglio se non avessi lubrificato i cuscinetti a sfera stamattina! Fai calmo, James! Cercheremo di tirarti via da lì! Adesso devi cercare di trovare un modo per venire verso di me! Non posso, zio Sam! Sono legato alla zucca con un'imbracatura! Non è mai facile, appunti, pandi! Dobbiamo fare in fretta, Sam! Andiamo verso la scogliera! Oh! Ho detto scogliera! Tieni gli occhi fissi su di me, James! Sam! Il vento ha fatto chiudere la portiera! Resisti! Dove sta andando? Tranquillo, James! Tornerà! Stiamo precipitando giù dalla scogliera, zio Sam! E anche per sogno, James! Qualcuno ha ordinato un salvataggio? Perché sta andando in retromarcia? Così il vento terrà aperto lo sportello! Rezziti forse! Eccoci qui, Sunny e Salvi! Aiuto! 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 La corrente è forte stasera, Penny! Potrebbero essere molto distanti ormai! Proviamo a nord, Ben! Sam deve essere lì! Ricevuto, Penny! aiuto! 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 resistete sto arrivando guarda devi averlo sparato Sam è arrivato il pompiere Sam siamo così felici di vederti Sam state tutti quanti bene stiamo bene Sam siamo solo un po' bagnati perfetto i soccorsi sono qui adesso vi tiriamo fuori dall'acqua voi dovreste sapere che non è saggio uscire in barca senza comunicare a nessuno dove state andando e poi non avevate neanche un salvagente né un razzo di segnalazione ci dispiace molto Sam beh per fortuna Norman e Anna vi stavano cercando nessuno avrebbe saputo che eravate spariti ci dispiace molto che la nostra piccola società abbia causato tanti problemi hai sentito che ha detto? l'hanno ammesso chiaramente loro sono una società segreta vogliono attirare gli uomini della luna a ponti pandi e noi gli Y file abbiamo sventato il loro piano no 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 non vogliamo attirare gli uomini della luna sono una società per l'osservazione delle stelle oh capisco ma come facevi a saperlo Anna? voglio dire agente Sparks sono un'investigatrice degli Y file ricordi? in realtà ho solo guardato sul portatile ma mi spiegate perché tanta segretezza perché abbiamo scoperto una nuova stella e quindi saremo noi a darle un nome proprio come pensavo ma sfortunatamente secondo il sito degli osservatori di stelle l'astro che stavate cercando di osservare è stato scoperto il mese scorso oh no bene un altro caso degli Y file è stato chiuso pompiere Sam ti andrebbe di unirti alla nostra squadra degli Y file eh? no no grazie Norman penso che sia molto meglio lasciar fare agli esperti che ne dici? fuoco state attenti al fuoco oh che colpo di scena drammatico non me l'aspettavo proprio no no questo non è parte dello spettacolo ascoltatemi attentamente dobbiamo immediatamente evacuare l'area il centro alpino per le attività di montagna va a fuoco e il mio show è rovinato il centro alpino per le attività di montagna va a fuoco e lo show del capitano steel è rovinato state tutti indietro allontanatevi dalle fiamme non ci arriva signore questa manichetta è troppo corta bene c'è una sola cosa da fare dovremo spegnerlo come ai vecchi tempi prendete tutti quanti un secchio facciamo una catena umana fino al lago cerchiamo un secchio avete sentito il capitano? bene squadra dobbiamo assicurarci che l'area sia libera ricevuto Sam Tom abbiamo un incendio al centro per le attività di montagna ci serve wall B2 ricevuto Sam aiuto 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 era la voce di James oh James, Norman ho bisogno che rimaniate calmi e che mi seguiate state più bassi che potete va bene fuocchiare Sam via libera Sam via libera Sam via libera Sam la via è libera Tom ricevuto Sam pronti squadra ora passatevi il secchio proprio come nello spettacolo passa 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 il secchio quello dopo passa 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 passalo di là su 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 mettici acqua fresca tienilo alto tienilo freddo non farlo cadere mai mio padre ne sarebbe orgoglioso il fuoco è spento gente a te quando arriviamo non prendere una pala a battifuoco per finire di nuovo in televisione quattico avevo Non riesco a spostarlo, Penny Dobbiamo sbrigarci, Sam Si sta riempiendo in fretta Che ne dici di Phoenix? Phoenix è potente, ma non riusciremo mai a farlo arrivare in tempo In effetti c'è un'altra cosa abbastanza potente per sollevare quel sottomarino Va bene, ascoltatemi, state indietro Vi voglio tutti a distanza di sicurezza dall'acqua Dov'è finito il mio Submaster 2000? Io credo che potrebbe essere finito in fondo al lago Santo cielo, santo cielo! Tu per calare l'argano, Sam Siamo pronti, Tom Tranquillo, Norman Sei al sicuro? Dovremmo portare il tappeto con noi? No, credo che i giorni di gloria di questo tappeto siano finiti Andiamo, James! Il principe aspetta! Non guardare in basso! Oh no, io... Io non... Lo sappiamo, James Odio le corde che attraversano le scarpate Ma ci sei quasi... Preso! Ora manco soltanto io! Guardate e imparate! Vi faccio vedere come si fa! Vai così, Tom! Che sta facendo quella pecora? Qual è pecora? Sta mangiando la fune, a quanto pare No, 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 no Vattene via, pecora! Noi non ti vogliamo qui! Va a mangiare qualcosa altro! Andiamo, Tom! Sei un uomo selvaggio! Oh no! Tom! No! Ai! Mi sono fatto male alla spalla! Non posso arrampicarmi! Credo che sia meglio chiamare Sammy il pompiere Non riesco a vedere un bel niente! Nemmeno io! Io ci vedo! Grazie al mio View Master 2000. E che stanno facendo? Sembra che non siano riusciti a trovare un giocattolo per il principino. Oh! Ma Dillis è riuscita a vendere loro un barattolo di sottaceti dal banco delle offerte. Urrà! Oh, Dillis ne sarà felice. Sono giorni e giorni che prova a finirli prima che scadano. Oh! Stanno uscendo! Tom Thomas è bloccato su uno sperone roccioso e si è ferito a una spalla. Tom Thomas è bloccato su uno sperone roccioso e si è ferito a una spalla. Ricevuto, signore. Ma, signore, se Tom è bloccato su uno sperone, chi farà decollare l'elicottero di salvataggio? Posso farlo decollare io? Oh! Ti porto il più vicino che posso! Ci siamo quasi! Dobbiamo trovarli! Andiamo, Lizzie! Boo! Boo! Ah! Le impronte degli zoccoli vanno da questa parte e dal loro aspetto direi che Mandy e il suo cavallo sono scivolati in questa direzione e poi sono ruzzolati fino a... qui! Eccoli là! Sarà meglio chiamare il pompiere, Sam! Oh! Mandy e il suo cavallo sono bloccati in fondo a una scarpata dopo il crocevia sulle colline di Ponti-Pandi! Mandy e il suo cavallo sono bloccati in fondo a una scarpata dopo il crocevia sulle colline! Aspetta, Penny! Stiamo per arrivare sul terreno instabile! Allora... Mandy! Sei ferita? Sam è pronto! La barella è pronta! Allora andiamo! Come sta il cavallo? Era molto spaventato, ma lo ha carezzato e gli ho detto di non preoccuparsi Oh, ben fatto, Mandy Il cavallo è tranquillo Ora, diamogli una controllata Ok, Mandy, per portarti in cima e stare tranquilli, dovrai sdraiarti sulla barella Sdraiati per bene Il cavallo è a posto Siamo pronti per l'argano di Phoenix No, il rumore sta spaventando il cavallo Ferma, Phoenix Ecco, calmo Sam, io terrò il cavallo tranquillo mentre tu lo assicuri con le cinghie Ma fallo lentamente, ok? Ah, bravo così Resta calmo e tranquillo Bene, è in salvo Grazie, Lizzie Sta' attenta, mamma, c'è un albero caduto Oh, non c'era l'ultima volta E quando è stato? Dieci anni fa Ferma, frena, frena, frena È quello che sto facendo Non credo che arriverò in tempo per il giro in elicottero Dobbiamo chiamare Sammy il pompiere Norman e Dilly Spryce Sono bloccati su un albero Dentro il loro veicolo Sulla scarpata Tra i boschi Oh, santo cielo! E per la nostra ultima attività Un volo su Wallaby 2 Sarà un'esperienza davvero pazzesca Non sto nella pelle Io adoro Wallaby 2 Norman e Dilly Spryce Sono bloccati su un albero Dentro il loro veicolo Sulla scarpata tra i boschi Andiamo, Elvis Avrò bisogno del tuo aiuto Per questa missione Bene, cadetti Torniamo al centro Cosa? Non posso proprio crederci Lo sapevo che Norman Ci avrebbe rovinato il giro in elicottero Noi siamo pronti, Tom Quanto manca ancora? Passo Ho scarpato a poco più avanti Passo L'auto sarà in equilibrio precario Prima penserò ad assicurarla E dopo potremo tirare fuori Norman e Dilly Sam, Elvis Pronti per essere calati? L'auto è assicurata Norman, Dilly Stiamo per venirvi a prendere Ok Ho bisogno che restiate entrambi immobili Mentre noi apriamo le portiere Sei pronto, Elvis? Uno Due Tre Adesso Noi due ci infileremo nell'abitacolo E vi legheremo a questo organo Pronti? Ecco fatto Ora restate fermi Via libera Puoi tirarci su? Credo proprio che sia meglio chiamare Sam il pompiere Norman, Mandy, James e Sarah Si dirigono in mare aperto con i motori al massimo su Neptune Alla ricerca di insetti alieni Norman, Mandy, James e Sarah Si dirigono in mare aperto con i motori al massimo su Neptune Alla ricerca di insetti alieni Mi mancano i giorni in cui dovevamo salvare solo gattini sugli alberi Preso! 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 Io invece non ho ancora trovato il segnale Abbiamo battuto Charlie e Mike! Ora facciamo rotta sulla terra Non sono sicura di che direzione prendere Non riesco a capire tutta questa strumentazione Beh, andiamo di là Credo proprio che sia da quella parte Sei tu il capitano Guardate! Terra in vista! Ma quello non è il molo Siamo arrivati al faro E stiamo andando dritti verso quelle rocce Sarah! Vira! Non riesco a tenerlo! Le onde sono troppo alte! Oh no! Oh no! James si sta reggendo allo scafo sul lato di Trimorso! Ora non più! Aiutatemi! Io non riesco a vederli, Sam! Un momento Ricordi la prima regola delle missioni di ricerca Più in alto sali, più lontano puoi vedere! Portaci su, Tom! Li vedo! Sono vicini al faro! James è nei guai! Ecco, cerca di aggrapparti, James! Non riesco ad arrivarci! È Wallaby 2! Prendi l'argano, Sam! Non c'è tempo! Sì, Sam! Li ho preso, James! Prendo io il comando, Sarah! Voi tre, reggetevi! Portaci su, Tom! Tutto bene, Penny? Tutto sotto controllo, Sam! Riparti i ragazzi al malo! Sistemerò la bombola del gas per Ellie! No! Lo faccio io! No, lo faccio io! Ma Ellie ha detto di non toccare niente! E da quando in qua obbedisci ai grandi? Ti ho detto di darla a me! No! Svelte! State indietro, indietro! E mettetevi sotto vento! James! James! Sono quassù! Tranquillo, James! Resta calmo! Andrà tutto bene! Continua a raggerti forte con le mani! E sposta il piede destro in basso! Ecco fatto, James! Cerca di scendere ancora un altro po' e potrò raggiungerti! Ben fatto, James! Posso prenderti da lì! Ora lascia andare il tronco! Ti ho preso! Stavo cercando di chiamare Sam il pompiere, ma non ho più bisogno ora che ci sei tu! In effetti, forse sarebbe meglio chiamare il pompiere Sam! C'è un incendio nella foresta vicino al mulino! C'è un incendio nella foresta vicino al mulino! E il vento lo sta facendo propagare in fretta! E il vento lo sta facendo propagare in fretta! Andiamo subito, signore! Penny, prendi Jupiter e vediamoci al mulino! Ricevuto, Sammy! State tutti bene? Sì! Grazie a Norman! Ci ha fatte allontanare dal fuoco! Ottimo lavoro, Norman! Non laverò mai più questa camicia, lo giuro! Non l'hai mai lavata comunque, Norman! Ecco, Sam, il pompiere! L'incendio si sta propagando in fretta, Sam! Ellie, pensa ad azionare le manichette di Jupiter! Andiamo, Penny! Spegniamo questo incendio! Ehi, ragazzi! Siete pronti per il trenino conga? No, per niente! Non ho proprio idea di come disattivarlo! E ci vorranno ore prima che Tom torni qui con il cd giusto! Stammi a sentire, Accolfaglia di circuiti impazziti! Spegniti subito e questo è un ordine! Mi dispiace, Norris! Temo proprio di non poterlo fare! Adesso ti faccio vedere io! No, no, signore! Non credo che sia... Modalità festa in piscina! Attivata! Per tutte le manichette intrecciate! Oh, troppi tali! Oh, oh! Una battaglia tra maghi ha provocato un incendio tra le montagne! E si sta propagando in fretta! Credo che oggi sarà una giornata faticosa! Ecco, ora è spento! Stelline ed erba secca? Non è un bel mix, Norman! Scusa tanto, pompiere Sam! Stavo solo cercando di aggiungere un pizzico di magia! Lo sai che cosa sarebbe davvero magico? Se riuscissi a stare fuori dai pasticci per il resto della giornata! La scena finale sarà priva di pericoli! Lo prometto! Bene, lo spero tanto! E ora... La scena madre del volo sul manico di scopa! Ciacuno! No, Norman! Quel cavo è davvero troppo in alto! Fa tutto parte dei miei super effetti speciali extra magici! Voglio che questo film diventi virale! Hai presente? Voglio così tanti click da rompere la rete internet! L'unica cosa che ti romperai sarà una gamba! Andrà tutto bene! In fondo, sono un asso della regia! Oh! Non riesco a guardare! Oh! Sta volando! Oh! Sono rimasto appeso! Chiamate Sammy il pompiere! Oh, vi prego! Fatelo smettere! Wally Widzo, il grande mago, è agganciato a un cavo al di sopra di una cascata! Sta penzolando a testa in giù, appeso per un piede! Avrei dovuto prevederlo, in effetti! Aiuto! Reggiti forte, Norman! Sam sta arrivando! Svelto, Sam! La sciarpa è un regalo di Zia Phyllis! Ed è di bassissima qualità! Oh, la tensione è trappa anche per me! Non riesco a guardare! Oh! Spero che Sam lo raggiunga presto! Anch'io! Ho quasi finito lo spazio nella memoria! Oh! Ti tengo! Oh! Stava finalmente per rivelare che era il ladro! Nessuno guarderà la fine di questo film finché quel gatto non sarà nel suo trasportino! Va bene! Lo acchiappo io! Qualunque cosa, pur di scoprire che è il ladro! Sta attento, Norman! Levami quella coda puzzolente dalla faccia! Quel gattaccio mi sta facendo davvero saltare i nervi! Norman! È tutto a posto! Sto bene! Ma ora dov'è finito il gatto? Aspetta, Norman! Non spaventarlo! Non riuscirò mai a prenderlo! Credo che abbiamo problemi più grandi! Chiamo mio padre! È chiusa! Siamo in trappola! Svelte! Vi prego, fate qualcosa! Meglio chiamare Sammy il pompiere! Sam, ho avuto un problemino mentre cercavo di pulire la tua uniforme! Però ho eliminato del tutto la puzza! Grazie, Elvis! Ma credo che... C'è un incendio nella casa dei Flood! Mandy, Anna e Norman sono intrappolati all'interno! C'è un incendio nella casa dei Flood! Mandy, Anna e Norman sono intrappolati all'interno! Oh, no! La mia casa va a fuoco! Ancora! Norman, Mandy, Anna! Ho bisogno che restiate lontani dalla porta principale! Pronta, Penny? Pronta, Sam! State tutti indietro! Datevi la mano! Restate più in basso che potete! Vi guiderò attraverso il fumo fino alla porta d'ingresso! Andate dritti e dirigetevi verso i lampeggianti blu di Jupiter! Sam! Il gatto è ancora dentro casa! Va bene, Norman! Lo trovo io! Svelto! Andiamo di sopra! Siamo in salvo! Mandy? Sei una Bondi! No, non è vero, Norman! Credo solo che mi stia ammalando! Questo è il primo segno della trasformazione Bondi! Norman! Che cosa faccio? Che cosa faccio? Ci sono! Chiamo Sam il pompiere! Oh no! Dov'è il telefono? Oh, l'abbiamo sepolto! Non posso uscire di qui! Mi serve un segnale di emergenza! Oh, un razzo! Ah, perfetto! Oh no! Oh no! Ho fatto un sogno davvero terribile! Norman Price lanciava un razzo sulla cesta della biancheria e dava fuoco a tutta la casa! Non era un sogno, vero? Norman Price ha acceso un razzo provocando un incendio in casa dei Flood! Norman Price ha acceso un razzo provocando un incendio in casa dei Flood! Norman Price ha concerto di mavitare! rul Elvis, Ellie, voi spegnete le fiamme dall'esterno. Io e Penny salviamo chiunque sia all'interno. Bene, Sam. La porta è bloccata. State indietro. Bondi! Calmati, Norman. Sono soltanto io. Mi sembrava Mandy. Tu porta Norman e Mike fuori, Penny. Io salgo di sopra. Aiuto! Si sta riempiendo di fumo qui. Traiati a terra, Mandy. E resta lontana dalla porta. Sto entrando. Ora sei al sicuro, Mandy. Bene, Arnold. Credo che sia arrivato il momento di fare un altro test sul nostro Fire Dog 2000. È una mia impressione o il Fire Dog 2000 sembra un po' arrabbiato? No, non è un'impressione. Santo cielo! Santo cielo! Santo cielo! Beh, sembra che le strade di Ponti Pandi siano sicure, Sam. Forse riusciremo davvero a festeggiare un mese senza incendi. Non si sa mai, Ellie. Ma forse potremmo farlo. Guardate! Fire Dog 2000! Questo sembra un lavoro per il ragazzo atomico! Fa' attenzione, James! Oh, no! Il sistema di identificazione biometrica ha agganciato un bersaglio con un intento ostile! Eh? Cosa? Vede le persone e gli dà la caccia! Battene! È l'occasione per l'invisibile Norman Man di salvare la situazione al posto dell'inutile ragazzo atomico! Sta, sta, sta attento, Norman! Non ho bisogno di stare attento! Sono invisibile e ciò significa che... Aspetta un momento, mi vedete? Ti vediamo tutti benissimo, Norman! Ma questo significa... Che anche lui può vedermi! Corri, Norman! Santo cielo! Spero che stiano alla larga dai barili di benzina! Meglio chiamare Sam il ponchiere! Norman Price è inseguito da un cane robotico che va a fuoco! Norman Price è inseguito da un cane robotico che va a fuoco! Deve essere il Fire Dog 2000! Potrebbe essere un grosso incendio! Meglio prendere Jupiter! Penny! Avremo bisogno di te! Sto arrivando! Sto arrivando! State tutti indietro! Mantenete la distanza di sicurezza! Norma bene! Spacciato! Spacciato! Spacciato!